bella raga bentornati in questo nuovo video benvenuti se siete nuovo nel canale questo video non è un video tutorial ma è un video proprio informativo ragazzi guardate che bello questo outfit con il magic slot se siete interessati contattatemi ragazzi praticamente vi sto facendo rivedere ragazzi il glitch che ho portato ieri che vi lascio qua in alto a destra o giù in descrizione per fare un completo con le scarpe da scia mortale ragazzi questo outfit io l'avevo già portato mesi fa quindi qualcuno prima di scrivermi chiedermi qualcosa che controlli bene e a questo punto ho pensato perché non portarvi un esempio di cosa si può fare con il magic slot ragazzi perché questo outfit come ben sapete è mezza una minchiata perché il maschio rimane la tuta baggata e non è veramente così bello cioè alla fine ci metti la felpa un cinturone finito lì quindi ho pensato per farlo un po più carino propongo questo outfit con i magic slot che abbiamo fatto con il mio socio ragazzi ed è veramente la svolta perché anche un outfit così del cazzo semplice diventa una figata raga il prezzo è di 35 euro per il magic full raga per full cosa intendo tipo i guantoni da moto baggati i rebritter blu le scarpe particolari mentre invece se volete quello normale solo loghi il prezzo è di 20 euro ed è abbordabile ragazzi quindi quello lo scegliete voi a seconda di come volete il magic slot io adesso ve lo farò vedere con il magic full ovviamente l'abbiamo fatto sul mio con il britter blu con i loghi ragazzi col cinturone ed è veramente una bomba con i guantoni e le scarpette da scia mortale quindi ragazzi adesso vi faccio vedere non velocizzato cosa possiamo fare allora l'outfit quello con le scarpette da scia mortale che vi ho portato ieri sul maschio praticamente si presenterebbe in questa maniera ragazzi potete mettere quello che volete sopra di parte ma la tuta rimarrà sempre quella quindi è un po sacrificato questo outfit non è che sia così bello sulla femmina viene più carino perché i pantaloncini li possiamo coprire quindi ragazzi il magic slot guardate che cazzo può fare è tutta un'altra vita raga cioè voi avete la possibilità con pochi soldi di farvi tutti gli outfit che volete in questa maniera cioè è una figata selezionate prima l'outfit che volete e poi ci mettete il magic slot sopra e fate quello che volete ma se non vi piace vi faccio vedere se non vi ho convinto vi faccio vedere un altro esempio raga prendiamo il completo quello standard ok questo che è una minchiata un completo del cazzo raga guardate con il magic slot la potenzialità cosa cambia cioè diventa assurdo diventa bellissimo guardate che figata raga quindi mi seleziono l'outfit metto il magic slot sopra e guardate e spada bam ditemi se ora questo outfit non è una bomba è una bomba raga se non vi ho ancora convinto vi faccio vedere un altro esempio mi vado a selezionare questo completo raga guardate che brutto guardate appena faccio il glitch del magic che bomba che diventa ditemi voi cosa ne pensate lasciate un like se vi è piaciuto il video contattatemi su telegram se siete interessati base 20 euro ragazzi solo i loghi full 35 solo per xbox next gen rega quindi lasciate un like lasciate un commento supportate xavix iscrivetevi sul canale viola e alla prossima sva da bam